L'artista esistenzialista, oggi una poesia, signori, incantevole, romantica, tremendamente bella, intimista, introspettivo, potremmo continuare all'inverosimile. Credo veramente sia una delle più belle e interessanti degli ultimi tempi. Credo che sia un po' un raccontare e raccontarsi, un po' a 360 gradi, perché vale per molti di noi, ed è il ricordo di te. Il ricordo di te potrebbe essere uno dei tanti ricordi che abbiamo del passato, di ciò che ci è accaduto, di ciò che abbiamo vissuto, di ciò che abbiamo ascoltato, di ciò che ci hanno raccontato su, diciamo, sguardi particolareggiati, momenti, diciamo, dolci, entusiasmanti, ripeto, poi, unici, intimi, particolareggiati, e quant'altro. Vediamola assieme. Il ricordo di te. Lo sguardo di lince, ed ogni notte era una flebile carezza, e poi un dolce agguato. Quei baci roventi si vestivano di asprigni mirtilli, sempre più teneri, ed inanerrabili, di un vibrante rosso carminio mai pago. Quelle fronte espanse combaciavan, fiere e mai rendevoli, come nobili copertini di un appassionato libro mai letto per intera. Quei diafani palmi scivolavano su e giù, sudatici e controversi, finché pollici e poi medio e anulare si confessassero, intimamente, su ciò che era opportuno dire o giusto preservare, sulle passioni roventi, ai pie delle solenni alture. Può mai l'egoismo snaturato comprendersi pur per brevi tratti, le cicatrici attive che pulsa, silenti, ogni qual volta, un amore ecluso sbatte la porta, capochino, non lo credo minimamente. Può mai una sigaretta sgolcita rimanere acceso oltre quei due minuti di stratosferica follia compiaciuta? Lo chiedo a voi, poiché le mie risposte, troppe volte, al cospetto altui, son frezzanti e mai scontate. Rimembro, salubri, carezze, come vellutate, calle, dai camiciotti a avorio, tra mimose, giallognone, dai chicchi soffici e non di meno paffuti. Cupido passeggia ogni notte tra tegole rossicce e camigni biancastri, con pungenti dardi e baci incantati, scoccati, a più non posso, da quel flessuoso e dolce arco concavo che non smetterà mai di farci sognare. Credo molto, molto bella, molto, diciamo, corroborante, splendide, incantevole, scintillante, insomma, fate voi. Io credo che magari delle volte abbiamo dei ricordi su dei momenti particolareggiati, un vissuto nostro, intimo, e poi tra quello che magari abbiamo letto, vissuto, compreso, capito, ci hanno raccontato, magari mi hanno raccontato amici e quant'altro, di momenti particolari che abbiamo vissuto, intimi, particolari, dove c'era una bella presenza, una bella donna, fate voi, dallo sguardo di Lynch. E tutte le notti, qualsiasi notte, ogni notte diventava un freddo misto fra una flebile carezza e un dolce agguato, perché sapevi che in quel contesto, in quella casa, in quel momento specifico, c'erano delle splendide carezze, delle dolce carezze, ma anche degli agguati, diciamo, dolci, di cui magari poteva anche non fare a meno. Erano baci roventi, baci scottanti, quelle tubi di labbra carnose si vestivano di mirtilli asprigni, mirtilli che erano teneri, ma anche inaderrabili, indescrivibili a tratti, di un vibrante rosso carminio, mai pago. Erano dei baci infiniti, che effettivamente, ripeto, potevano essere incredibili, inaderrabili, dati incontrovertibili, diciamo, di un amore mai pago. Fronti espanse, che si avvicinavano, si incollavano, fieri, combaciavano, fieri, e mai rendevoli, quindi in modo perpetrato, o nel tempo, quasi come se fossero delle nobili copertine, di un libro, che ne so, appassionato, splendido, incredibile, mai letto interamente, quindi sai, molte volte, quando non si vivono dei momenti, per interno, si parla di pagine strappate, per certi versi, una metafora, calzante, forte, abbastanza intuitiva. Abbiamo dei diafoni palmi, che delle volte sono sudaticci, che scivolano su e giù, non riescono a trovare, un'adeguata quadratura, e quindi, è tutto così, tremendamente controverso, folle, pazzesco, e quindi, quei pollici, medio, indice, si intrecciano con le loro nocche di riferimento, con questi palmi, e valutano attentamente, intimamente, in modo introspettivo, meditabondo, diciamo, riflessivo, oltremodo, su ciò che è giusto, ingiusto, opportuno, inopportuno, dire, non dire, preservare, nascondere, su quelle passioni, roventi, accese, che si trovano, ai piedi delle solenni alture, magari un vissuto, che ognuno di noi ha potuto avere abbastanza, diciamo, volitivo, può mai, secondo voi, l'egoismo snaturato, pregnante, assurdo, comprendere, per brevità, quindi, anche per dei momenti, per delle minuzie, diciamo, temporali, quelle che sono le cicatrici attive, che vibrano continuamente, ogni qualvolta, e vediamo, un ramore, recluso, quindi, dietro delle sbarre amorose, incomprensibili, che sbatte la porta, capopino, capochino, va via, perché magari si sente poco compreso, io non penso, io non lo credo, minimamente, secondo voi, una sigaretta accesa, sgolcita, raperciata, può rimanere, in quello stato, accesa più di due minuti, due minuti di follia stratosferica, seppur compiaciuta, lo chiedo a voi, io le risposte, già ce le ho, però, magari, direte, che mi ripeto, invece no, al vostro cospetto, le mie, sono sempre, risposte, frizzanti, altalenanti, alternative, quindi, mai, del tutto, diciamo, squalidamente, scontate, ricordo, rimembro, quelle carezze, salubri, quasi come se fossero, all'intimo contatto, vellutate, calle, sinuose, dai camiciotti, avorio, che venivano circondate, da queste giallognole mimose, dai chicchetti, soffici, e paffuti, quindi, dei momenti, alquanto, splendidi, belli, particolareggiati, si, e delle volte, possono anche essere, di tratteggi sognanti, mucolici, pindarici, voli di pindarici, di farfalla madre, oppure, dei sogni, chiaramente, ripeto, li percorriamo, dei momenti, momenti e mutamenti, ma anche ciò che, è intimamente connesso, dentro di noi, attenzione, io credo, che Cupido, ogni notte, passeggia, tra le tegole, dei tetti, tregole, rossicce, e tra questi caminetti, biancastre, e quindi, dove c'è questo, mellifluo, vento, fresco, si diletta, a scoccare, quei dardi, pungenti, con baci incantati, che lui aggiunge, a questi dardi, spigolosi, pungenti, li scocca, continuamente, a più non posso, a Iosa, da una parte, e all'altra della città, da quel dolce arco, flessuoso, anche concavo, e lì, non smetterà mai, di farlo, perché il suo unico intento, è quello, di farci, sognare, l'artista esistenzialista, buona giornata, a tutti.